Si dice ci vuole controllo, specialmente sulla rete, però non si capisce bene chi poi agisca concretamente questo controllo. Agenzie grandi che fanno finta di essere assolutamente neutre, persone private, se ne può uscire? Se ne deve uscire. Per il resto in questo momento è una bellissima narrativa che avvantaggia molti soggetti. È chiaro che sulla rete ci vuole controllo, ma il controllo in uno Stato democratico è deputato agli Stati che rappresentano i cittadini e le leggi normano. Oggi cosa sta accadendo, meglio che cosa è accaduto? Che la rapidità con la quale si è evoluta la rete, la diffusione degli individui presenti nella rete senza nessuna norma ha fatto aumentare la domanda del controllo, ci vuole qualche regola. Nessuno è capace a darla di quelli che sono gli stati legittimati, allora stanno prendendo il controllo quelle che ormai possiamo chiamare le sette sorelle, sono i sette grandi che controllano questi mezzi di comunicazione. Da Facebook a Google, è inutile andare avanti a fare i nomi, li conosciamo bene. Quindi se nessuno controlla, beh signori siamo chiamati noi a controllarlo, lo facciamo noi per il bene vostro. Questo non è molto bello perché poi alla fine si cade in un controllo la cui legittimità è del tutto privata che certamente risponde a un bisogno ma che al di là di controllare, ecco non sappiamo bene dove affondi le radici oltre che della legittimità, dei valori che sempre servono a dare consistenza alle norme, alle regole.